Farò una diretta con ognuno di voi di 10 minuti. Non chiedetemi del mio caso giudiziario. Parleremo solo di stress, ansia, depressione, attacchi di panico e di qualsiasi altro problema che necessiti di ascolto e supporto. 5 euro è una somma modesta. Prenotati per parlare con me e scrivi. Cambio. A scrivere questo annuncio è stato Mario Maccione, uno dei membri delle bestie di Satana, il gruppo di adolescenti che tra il 1998 e il 2004 si rese responsabile di tre omicidi e di un suicidio indotto. A vent'anni dai crimini commessi da quei ragazzi, molti di loro hanno già scontato le loro condanne. Tra questi c'è proprio Mario Maccione, tornato libero nel 2017, dopo aver scontato 13 dei 19 anni di pena. Un tempo era soprannominato Rossity. Nel gruppo era stato eletto come medium, ossia l'uomo in grado di entrare in contatto con forze demoniache. Oggi ha 43 anni, vive nei pressi di Sassari e si sente un uomo completamente rinnovato. Per questo motivo si propone di aiutare tutte le persone che vivono gli stessi problemi che lui ha affrontato in passato. Una sorta di sportello di ascolto virtuale al quale chiunque ne avverta il bisogno può rivolgersi per chiedere consiglio. È stato lui stesso a parlare di questa sua nuova ambizione. Maccione ha dichiarato L'esigenza è nata dalle richieste di alcune persone che mi contattavano per raccontarmi le loro angosce e le loro ansie, molto simili a quelle che ho vissuto io. Non voglio sostituirmi a un professionista, ci mancherebbe, anche perché non sono nemmeno laureato, ma sento di poter aiutare gli altri. Ovviamente dieci minuti non bastano, ma ho fatto un esperimento in cui offro dei consigli. Ora sto cercando di capire se funziona e se è possibile strutturarlo anche con un'associazione con cui collaboro e che aiuta i senza tetto. Il mio sogno sarebbe farlo diventare un lavoro. Questa nuova strada intrapresa da Maccione ha suscitato la reazione dei familiari delle vittime, in particolare quella di Michele Tollis, padre di Fabio, il diciannovenne ucciso e sepolto in un bosco di Somma Lombardo insieme a Chiara Marino, anche la diciannovenne. Questo padre si è battuto a lungo per scoprire la verità sulla scomparsa del figlio, fino a far emergere tutte le nefandezze compiute dalle bestie. Spiega Michele Tollis. Che dire? Il lupo cambia il pelo, ma non il vizio. In questo periodo sto cercando di disintossicarmi. Evito di leggere qualunque notizia sulla vicenda. Nonostante ciò, sono comunque giunto a conoscenza di questa novità. Mi sembra assurdo, se non pericoloso, come pericoloso è il personaggio. A tal proposito ha parlato anche Annalia Ferrarese, madre di Cristian Frigerio, un operaio scomparso il 14 novembre 1996 e mai più ritrovato. Fu lo stesso Maccione, nel 2008, a indicare Frigerio come vittima della setta, salvo poi ritrattare. Dice oggi la madre di Cristian. Sono molto arrabbiata. Mi chiedo se ora vuole fare soldi dopo aver commesso omicidi. Poi la donna ripercorre il caso della scomparsa di suo figlio, mai ufficialmente annoverato tra le vittime delle bestie di Satana. Maccione andò al parco in crea con i carabinieri e con il pubblico ministero per indicare dove si trovava il corpo di mio figlio Cristian, anche se poi non fu trovato. Oggi, invece, afferma di non aver mai conosciuto mio figlio. Mi chiedo quindi come mai decise di andare con i carabinieri al parco. Di chi sarebbe il corpo che lui intendeva far ritrovare? Ci andò soltanto per ottenere uno sconto di pena. Per le bestie di Satana ci sarebbe voluta la pena di morte. Sì, sarò crudele, ma mi hanno tolto un figlio e non ho nemmeno una tomba dove piangerlo. Maccione ha trascorso del tempo in diversi penitenziari. In quello di Bollate, vicino a Milano, ha seguito un percorso di disintossicazione dalle droghe e di rinascita psicologica. Quest'anno ha pubblicato un libro intitolato Cambio vita. Come uscire dalle dipendenze, depressione e ansia. Si descrive come un esperto di meditazione, musicista e amante della natura. Ma chi potrebbe essere interessato a chiedere consigli a un uomo con il suo passato? Maccione risponde. Persone che hanno problemi di bullismo o di depressione. Io ascolto gli sfoghi, anche perché molti di loro sono già in cura e non si fidano degli psicologi, vedendomi piuttosto come un amico, non come un esperto. Porto solo la mia esperienza. Ad esempio, ci sono tossicodipendenti che non riescono a liberarsi usando il metadone e io dico loro di muoversi, di correre, perché in questo modo il corpo produce endorfine che possono sostituire gli effetti della droga. L'astinenza è terribile e io l'ho provata. Maccione ha anche aperto un canale su Telegram in cui racconta la storia delle bestie di Satana. Per accedere è necessario pagare, perché lui dice di voler evitare che il contenuto venga visto dai minori. Dice ancora, la mia coscienza, la mia psicologia e le mie convinzioni si sono trasformate nel corso degli anni in cui facevo parte di quella gang. Dal 1995 al 1998 provavo odio verso la società e le persone e avevo pensieri violenti. Tutto era leggero, facile e mi sentivo onnipotente. Non davo molto valore alla mia vita perché non avevo la percezione del rischio ed ero dipendente dalle droghe che alimentavano quella realtà e nascondevano il mio nemico principale. La noia. Dal 1998 al 2004 tutto era paura, ossessione, paranoia, sotterfuggi e inganni, segreti atroci, frustrazioni, impotenza, tensioni continue, depressione, attacchi di panico e tutto ciò che oggi voglio aiutare a eliminare. Il segreto è il controllo dello stress e io aiuto a trovarlo. Il carcere mi ha aiutato solo in parte, la forza del cambiamento è venuta soltanto da me.